Questa sera, a differenza delle altre volte, parlare solo del campionato viene veramente difficile. Primo perché in studio abbiamo l'ex squadra femminile dell'AfroNapoli, che chiude la vicenda che abbiamo trattato la settimana scorsa, trattato è un termine educato, visto che è stato oggetto di forti discussioni anche in studio. E secondo luogo perché si avvicina il PSG, la squadra del Paris Saint-Germain, che sembra un Moloch insormontabile, visti i nomi che compongono il roster di questa squadra. Certo affrontare tutti insieme, ammesso che siano tutti bene, non parlo dei difensori, manca Buffon, Ariola in porta, ma Rabiot, Verratti, Bappé, questo nuovo treno in corsa che quando parte ha una potenza devastante, Neymar, che si candida a essere il prossimo miglior giudore del mondo, quando la parabola ormai discendente di Cristiano Ronaldo e Messi si compirà, di Maria e poi lui, il nostro sogno di mezz'estate, di ogni estate che è di Zoncavani, l'uomo che non è mai tornato, se non d'avversario. Affronto i due temi in rapida successione, partendo dal PSG. Il Napoli, in vista di questa gara, ha avuto un'occasione irripetibile ieri, quella di riaprire il campionato, che sembrava morto e sepolto prima ancora di cominciare, visti i pronostici della vigilia, viste le campagne acquisti fatte quest'estate, con Cristiano Ronaldo, ma non solo lui, Bonucci, Cancelo, Emre Can, Perin, tantissima roba per la Juventus. Quattro punti di divario l'anno scorso contestabilissimi per quanto accaduto durante la stagione, ma che poi, dopo la campagna acquisti, sembravano ulteriormente aumentati. La sfida diretta ha detto che la Juve era più forte, sembrava che il campionato fosse già al parce sepultum, ma invece una distrazione, un momento così di abbennaggine da parte di Juventina. La sfiscia positiva delle vittorie consecutive si è fermata incredibilmente davanti a una delle sue bestie nere degli ultimi tempi, il Genoa. Nonostante il Genoa schierasse un portiere improbabile, improponibile, quel Radu che ha fatto di tutto per prendere golle, perché in uscita è veramente un disastro. La Juve si ferma, la Roma crolla in casa. Il Napoli ha la testa a Parigi, ma deve onorare il campionato. Cosa fa Carlo Ancelotti? Amplissimo turnover, ma uno non lo cambia. Ed è Calidu Coulibaly, la chiave di tutto. Lascia perfino a casa Insigne. La fortuna lo aiuta, perché l'infortunio di Verdi gli fa mettere in campo Fabian Ruiz, che fa subito gol. E il Napoli ieri conferma due cose non proprio positive, in una situazione invece di grande positività generale. Quali sono le cose, se vogliamo guardarle in controluce, non positive? Che il Napoli non chiude le gare, non chiude le partite, così come il corso al suolo, cinque palle gol. Qualcuna clamorosa, colpo di testa di Milik, Tielischi davanti al portiere di Piatto che mette fuori, due volte Cagliecon, Mertens con una serpentina in mezzo a due che tira a giro e non trova la porta. Il gol di Fabian Ruiz non trova la replica e il Napoli soffre per quasi 50 minuti, finché un rigore, che non tutti pensano sia sacrosanto, perché il fallo di mano del difensore udinese era molto ravvicinato, c'è chi come l'ex arbitro Marelli ritiene che quello non sia rigore, per me quello è un rigore solare e sacrosanto, il fuorigioco di Marquini non c'è, quindi per me quello è il rigore, ed è un gol regolare quello di Mertens, che chiude poi la partita, perfino Rogg entra invece che farsi ammonire, udite udite segna. Ebbene, 3 a 0, ma per la seconda volta consecutiva il portiere del Napoli di turno, primo Spina e ora Carnesis, massacrato ingiustamente alla sua prima apparizione in una michievole estiva con Liverpool, oggi porta fortuna assoluto, quattro partite e quattro vittorie, meglio di così non si può, Dazzon e Carnesis insieme sono un colpo di fortuna straordinario per il Napoli, fatto sta che Carnesis ha messo le mani sul risultato in maniera importante, mostrando che il Napoli non ha un portiere, ne ha tre, perché Meret vedrete che portiere è, mi auguro davvero che lo dimossi dall'Empoli in poi. Insomma il Napoli ieri ha mostrato una cosa importantissima, la mentalità, quella giusta, il leader calmo ha saputo per la quinta volta far partire a razzo i suoi ragazzi, è occasione da non perdere, giocano altri uomini, si cambia continuamente formazione, 11 su 11, pronti via si va a far gol. Questo Napoli ha detto che nel campionato ci sarà e c'è, e che se la Juve frena un tantino, la lotta non è affatto chiusa. seppur di palle e gol ne ha subite troppe, anche ieri, seppur non chiude le partite con la mentalità cinica e bara che dovrebbe avere la grandissima squadra. A Parigi credo che rivedremo il Napoli in opposizione Liverpool, cioè quello con Maximovic dietro e con Koulibaly dedicato verso Mbappé, perché quel treno in corsa si ferma solo con un cararmato altrettanto forte. È la partita delle partite, diciamocelo chiaro, il Napoli ha finora fatto 10 partite, 8 vittorie e 2 sconfitte. L'undicesima è quella di Belgrado, quel pareggio che può valere il girone. E quindi da Belgrado in poi, se si vuol passare il turno, bisogna fare solo miracoli. Andare a fare risultato a Parigi e batterlo poi in casa, il PSG, significa fare miracoli, così come è stato fatto con Liverpool nella cosiddetta partita perfetta. Attendiamo quindi, vi dico già che la formazione stavolta sarà prevedibile, dubbi pochissimi. Ospina, Penzo Maximovic, Albiol, Colibali e Mario Rui, con questa L dei tre difensori, Mario Rui alto. Alan Amsic, che il capitano quando poi entra in campo dimostra che ha motivo di essere il capitano e anche ieri ha dimostrato che quando c'è lui il Napoli è cosa diversa. Cagliecon, Insigne, che recupera, ed ecco i due dubbi. Milik o Mertens, Zierischi o Fabian Ruiz, perché se dovessero giocare Milik e Fabian Ruiz significa che Carlo Ancelotti riprende di nuovo il concetto della cavalleria pesante, di mettere tutti quelli forti fisicamente, perché a livello europeo conta molto la taglia. Maximovic, Milik, Fabian Ruiz, i metro e novanta che con Albiolo e Coulibaly costituiscono la cavalleria pesante di questo Napoli. e sarebbe la prima volta una formazione ripetuta perché sarebbe la stessa se giocasse Fabian Ruiz con Milik in partenza che ha giocato con Liverpool. Ho questo sospetto. Vedremo. Intanto il nostro Giannicelli ha già fatto la baguette ed è pronto per partire. Chiudiamo salutando queste splendide ragazze che giocheranno perché giocheranno, la situazione si è risolta con l'intervento del Presidente della Lega Nazionale Direttanti Cosimo Sibilia, prossimo Vicepresidente federale, visto che è in ticket con gravina e sono candidati unici. È vero che in Italia siamo capaci anche di far perdere un candidato unico, ma qui siamo ai limiti del paradosso, davvero. si è trovata una soluzione come dire, un po' direbbe Giannicelli ma lo dirà di sicuro democristiana. Io tengo ragione e tu mango tieni torto questo ragionamento cerchio bruttista. Vale a dire, l'AfroNapoli ha rivendicato e sentiremo il Presidente al telefono, ha rivendicato il principio dei suoi valori che non possono essere non condivisi da chi gioca per l'AfroNapoli perché l'AfroNapoli non è la frattese il pomigliano del colanese una normale squadra di calcio. È un'associazione che propugna certi valori dell'integrazione eccetera eccetera ben sapete cos'è l'AfroNapoli e che quindi non può accettare che nel suo seno ci sia qualcuno che non condivida questi valori perché hanno pensato che la capitana all'epoca capitana Titti e Stradita non condividesse questi valori facendo parte di una formazione politica che poi è tutto da vedere se questa formazione politica davvero non li condivida questi valori perché stiamo parlando di valori che dovrebbero essere universali quindi non riesco a capire perché non si debbano condividere da parte di tutti perché l'integrazione la possibilità di aprire il territorio agli altri non è un qualcosa che è di destra o di sinistra è un qualcosa che fa parte dell'umanità io credo che noi siamo degli animali noi italiani a negare lo ius soli ai bambini che vivono e nascono in questo paese che vanno a scuola con i compagnucci di sei anni e non hanno gli stessi diritti pur vivendo l'Italia conoscendo la cultura italiana nutrendosi della cultura italiana ma se ne è fatta una questione politica e non se ne è fatta una questione di civiltà che tutti i paesi civili riconosco quindi io penso che questa discussione di destra e sinistra sia forviante ma alla fine capisco l'afronapoli ma non era possibile che chi parla di integrazione facesse esclusione ecco perché ci siamo arrabbiati a campagna sport certo ho fatto abuso di posizione dominante avendo il microfono e urlando non ho fatto un buon lavoro mi rendo conto datemi del fascista secondo me voi siete come nel mito della caverna di Platone siete come quei prigionieri che guardano il muro davanti col fuoco alle spalle la gente che passa e credete che la realtà sia quella trasfigurata della caverna che proietta le immagini della gente di fuori il dramma è che quando il prigioniero liberato esce fuori e capisce la verità e torna dai compagni per dire guardate che la verità non è quella che voi vedete ma è quella che sta fuori i compagni non lo accolgono bene lo uccidono perché pensano che la verità sia la loro io vi lascio nel vostro buio e nella vostra verità e ho finito grazie